Are you ready to party? Stop! Get down on the floor! Everybody party like Boom 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 Morocco party like Boom 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 Down in Brazil they like Boom 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 Miami do it like Boom Haiti like Boom all over the world they like Boom 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 Salve ragazzi e bentornati su Bad Boys Non siamo più SRF Gamer Ma siamo Bad Boys E cos'altro dire ragazzi? Allora spieghiamo un pochettino cosa è successo Perché siamo bastardi geneticamente Abbastanza sì siamo abbastanza bastardi Sì no allora Molti voi avranno già sentito Dall'ultimo video di MotoGP che abbiamo fatto immagino Bravo Ok sì perché ancora non è uscito questo E praticamente avete capito che il nostro canale è stato cambiato Ma l'avrete anche notato Da il canale stesso che non si chiama più SRF Gamer Voi ci chiederete Perché? O anche no O anche Sti cazzi Sti cazzi Però a noi Quindi mettiamo like Commento Ci iscriviamo E basta E va bene Ah per noi va bene Ragazzi allora A noi seriamente ci farebbe anche piacere sapere un po' la vostra Però vi vogliamo spiegarvi Visto che a voi A voi ci teniamo parecchio Anche se siete pochi Però voi ci seguite Quindi un minimo di rispetto Meglio pochi ma buoni Meglio pochi ma buoni E vogliamo spiegarvi perché allora Beh uo 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 che cazzo Eh io ho vantato a fare in culo Allora vogliamo spiegarvi il motivo Eh ci siamo accorti che dopo penso sei mesi Che stiamo su questo canale Sì dopo sei mesi Che ce n'era un altro che si chiamava come noi Bastardo Ma non come noi Cioè cambiava giusto una consonante Sì perché noi abbiamo un po' di scritti Un po' di scritti Un po' di scritti Allora noi non l'abbiamo fatto per cattivere Perché noi abbiamo preso le iniziali dei nostri cognomi L'abbiamo messo E poi l'abbiamo fatto gamer Ma chi cazzo è che c'ha gli iniziali cognomi nostri I stessi cognomi nostri Vorrei capire Comunque va bene Allora ma io a prescindere Cioè 3 cognomi Cioè 3 cognomi Cioè 3 cognomi Quindi io a prescindere Io voglio i diritti d'autore da sto stronzo Oh sti strozzi Però vabbè a parte gli scherzi No le regole è uno Ma non si sa Noi siamo 3 e 15 e via No come giri No vabbè Ok siamo in 2 E ora che ho condi pure Allora calcolando Ragazzi un po' di serie da santo Dio Allora siamo in un luogo di seri Guardi me Guardi me Siamo in un luogo sacro Quindi ragazzi giusto per la cronaca Se abbiamo fatto questo pergamente blog Come vogliamo chiamarlo Scempio Video di presentazione Che metteremo su E poi metteremo in chiaro Gli altri video Perché non si chiamano Su Youtube Ancora ci trovate come SRF Gamer Perché purtroppo Youtube ci mette una vita A cambiare una cosa Però vi rindirizza automaticamente Al nuovo indirizzo Quindi Su Facebook pure è cambiato Su Facebook è cambiato Tutta la giornata Quindi E niente ragazzi L'unica cosa è cambiato Di gioco Ragazzi Non è vero Non è vero Non è vero Allora ragazzi Siamo un attimo serio So che è difficile per noi Mi trovate su Facebook E rispondo Allora facciamo anche questo video Per ringraziarvi Che comunque sono sei mesi Che siamo tra parentesi in attività Il nostro canale sta crescendo Pian piano Ma sta crescendo Pian piano ma cresce Sta crescendo Pian piano Noi non ci aspettavamo comunque Neanche un iscritto all'inizio Quindi sta andando abbastanza bene Che c'è Maria che è 33 Vabbè Buce di cui è chissà sedere Cioè però ci piacerebbe Ci piacerebbe comunque arrivare Noi siamo passati in piedi ragazzi Sì Novinate un po' chi è che non si è alzato Io perché non ho paura di Prenderlo al culo No Che cazzo Scusate No dai Mi fate farla santo dio Chievo a me un pappino Mi cominciò Ecco E niente Volevamo solo ringraziarvi Anche se Insomma Ci saranno altri momenti In cui ringraziarvi Quando raggiungeremo un tot Pure di iscritti Ma anche i ragazzi non ci servono 500 iscritti Sto cazzo Sto cazzo Sto cazzo Sto cazzo Io sinceramente Po la strella e la cena Gli offrirei poi Comunque Io lo soltanto a nome Di questi due coglioni Che tanto non faranno mai serie In vita loro Ringraziarvi Ma io su serio bello E quindi Voi ragazzotte che ci state ascoltando Lasciatemi il numero Io vi mandaterò Vabbè E' giusto che sia così Esattamente Volevo soltanto ringraziarmi Volevo datemi il nome Io vi faccio Aggiungo Ma l'hanno capito Che sei un pedofilo di merda Ma davvero Perché No no Soprattutto i travestiti Gli piace Non a me Eh no Hai detto donne Faccio pure che quella è una donna Si sente donna Ma in realtà è un uomo Ragazze In tutti i sensi Dentro e fuori Vabbè Voglio loro Non come te Esatto Vabbè ragazzi Allora Facendo un attimo raccomando Sì esatto Il nome è cambiato Le ragazze mi lasciano il numero Oppure il loro nome Cognome Diciamo che faremo altri video Oltre a Vabbè adesso sta uscendo Abbiamo visto che comunque La serie MOGP sta andando abbastanza bene Piace Eh Anche Wolfenstein sta uscendo Potrebbe esserci un colpo di scena Sì sicuramente Seguitelo Sì Niente Wolfenstein comunque sta andando a buon fine anche quello Speriamo che Con questo cambiamento di nome del canale Vadano meglio anche le visualizzazioni che Non dico che è colpa del nome però Sai com'è Se Vedi entro due settimane Ha un migliore di iscritti Ma io magari Ma io Se arrivo un migliore di iscritti Faccio un vlog E finalmente ci vedremo un faccio a tutti quanti Però Lo faremo Così lì vedi che era il mio amore È giusto che sia così Quindi ragazzi Tutto qui Usciranno a breve altri video Stiamo lavorando per altre cose Abbiamo comprato un paio di giochetti per la Wii U Ci stiamo lavorando E Usciranno Sono carini Sono carini dai Non diciamo i titoli va Tanto sono famosi però non diciamo È sempre una cazzo di Wii Però a Wii U Spacca E va bene E Magari Se potesse ma non si può E Ragazzi quindi niente Volevamo ringraziarvi da parte dei Bad Boys Seguiteci ragazzi Continuate a seguirci Anche pochi ma buoni Non importa il numero Conta la quantità La qualità La qualità delle persone Se ci avete il numero Eh Sì E Cos'altro dico Tu sei una persona cattiva tu Esatto Perché mi chiamo Bad Boys Sono basito Ma che basito è un coglione E quindi ragazzi niente Sono sei minuti che stiamo cazzeggiando Abbiamo detto una stronzata sola Cioè in tutto il video Era solo una cosa a dire Abbiamo messo sei minuti Abbiamo cambiato il nome Abbiamo cambiato il nome E speriamo che vi piaccia Anche perché Insomma Anche ci risperchiamo di più In questa cosa E tu sei un porco Esatto Esatto Sarò io Bad Boys Bad Boys Bad Boys Doppiamente porci Doppiamente porci tutti e due E tu sei uno stronzo Esatto Dobbiamo ti registrare No io direi Allora Ragazzi allora Cos'altro dire Un salutone da parte nostra Continuate a seguirci Continuate a A sostenerci Commentate Iscrivetevi Se volete mandare C'è c'ha fanculo C'è va bene tutto Vediamo anche il nostro conto Della posta paese Soprattutto le critiche Soprattutto le critiche Perché senti cagliata a crescere Possiamo mandare il nostro e-mail Della nostra posta paese Dai la tua Se volete contribuire Al nostro canale ragazzi Mandate il nostro link Qui sotto Ci stanno youtuber Che hanno fallito Questo stronzato Che hanno cacciati Quindi io vi direi Ragazzi si scherza Noi siamo ricchi di famiglia Ragazzi Ragazzi Comunque va bene così Un salutone ragazzi E Bella per voi Bella se beccamo Arrivederci Bella Ci becchiamo Siamo sempre solo i ragazzoni C'è uno finisce la Ciao Ah Sì sì Ciao Are you ready to party? Stop! Get down on the floor Everybody party like Boom 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 Morocco party like Boom 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 Down in Brazil they like Boom 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 Miami do it like Boom Haiti like Boom all over the world they like Boom 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 Everybody like Boom 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 Gordon